perché paesi san etelwald 912 984 vescovo benedettino ripristinò l'osservanza benedettina insieme a san dunstano e a santo svaldo di york promossa la rinascita monastica di quel secolo e divenne degno del titolo che gli è stato dato padre dei monaci fu anche l'autore del regularis concordia che regolarizzò l'osservanza monastica in inghilterra commento perché paesi che pure hanno vissuto un'intensa religiosità sono sempre più laici perché il loro passato religioso li ha condotti alla religione della coscienza